Il panettone, anche d'estate, il dolce lievitato non ha stagione, diventa protagonista dell'estate. Dopo il grande successo della Coppa del Mondo del Panettone 2023, il campionato si trasferisce per la seconda edizione del concorso estivo, quella che unisce la fragranza del panettone con la cremosità del gelato, al Porto Antico di Genova al 18 maggio. Qui sarà dato spazio ai pasticceri genovesi, con un corner dedicato a un dolce della tradizione, il pan dolce basso. I pasticceri gelatieri in gara presenteranno due panettoni, o di loro produzione o in collaborazione con un pasticcere. Uno dovrà essere farcito con il gelato, sorbetto e semifreddo, l'altro decorato a tema sportivo in onore di Genova, capitale europea dello sport. Una gara che ha l'obiettivo di destagionalizzare il panettone, il gelato e anche il pan dolce, che secondo la tradizione genovese si dovrebbe mangiare anche a Ferragosto. Una cosa che abbiamo pensato che fosse giusto fare era abbinare un panettone al gelato, cioè quindi il panettone viene svuotato, il concorrente deve riempirlo con tre tipi di gelato, che di solito nel regolamento si chiede un semifreddo, si chiede un sorbetto alla frutta e un gelato alla crema. Poi ci vuole anche un po' di inventiva nel riempirlo, perché viene premiata anche un po' la fantasia di come si fa, ci deve essere una struttura, ci devono essere dei colori e poi questo panettone deve essere decorato. Visto che quest'anno Genova è la capitale europea dello sport, il tema sarà lo sport.